La formula con prenotazione obbligatoria e a pagamento per accedere alla Valle Vertova funziona. Nel weekend si raggiunge il numero massimo stabilito di 1.400 persone già dal mattino. La gente comincia ad abituarsi e noi, oltre tutto, come avevamo promesso, ogni anno mettiamo delle migliorie. Quest'anno abbiamo messo dei cassoletti in più, dei bagni in più e quindi anche i fruitori della Valle Vertova hanno cominciato a capire che devono venire in Valle Vertova avendo già il biglietto che possono prenotare online. La Valle Vertova, in media valseriana, è un'osi naturale che si snoda tra il corso d'acqua, pareti rocciose e boschi e l'intervento dell'amministrazione è servito a garantire la sicurezza e il rispetto per l'ambiente. Il contingentamento è stato obbligatorio per una questione di sicurezza. Perché? Perché prima c'era gente che arrivava senza prenotazione così e entravano, quando arrivavano, entravano e ci siamo trovati 3.000-3.500 persone contate, col conto persone, che si trovavano nella Val Vertova, che è bellissima, ma come è bellissima è anche molto pericolosa. Nel senso che poi la gente, anche con i bambini, si ammassavano in certi punti, nel momento in cui viene un temporale un po' più intenso del solito, la Val Vertova nel giro di 10 minuti si esonda e non dà più la possibilità di tornare indietro fino a quando non defluisce l'acqua. Ricordiamo che la strada d'accesso è interdetta a tutti i mezzi non autorizzati. Grazie.